Ai contorni di un nuovo caso Regeni per i tanti misteri che si celano dietro la morte di David Solazzo, il cooperante fiorentino di 31 anni, trovato senza vita a Capoverde il primo maggio di un anno fa. 15 mesi a caccia della verità per i familiari, una verità ancora troppo lontana. Solazzo fu trovato davanti alla casa bungalow con i segni di profonde ferite alle braccia. A Capoverde hanno pensato ad una morte accidentale, un tragico incidente domestico, ma molte circostanze non tornano, per questo alla procura di Roma il PM Erminio Amelio ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. David era stato con una collega ad una festa, fino a poco prima, ed era prossimo a rientrare in Italia. In casa ci sono tracce di sangue nel bagno, i vetri di una finestra frantumati, un disordine a sospetto. Ecco perché la famiglia di David non si è mai data per vinta di fronte all'indagine delle autorità capoverdiane. A lungo le autorità locali non hanno collaborato con quelle italiane né con la famiglia, che ha incaricato un avvocato del posto ed ha chiesto tramite le ambasciate di avere accesso ai reperti sequestrati. Finora di documenti ne sono arrivati pochissimi. Abbiamo bisogno di sapere qualcosa sulla morte di David, dicono i familiari, la versione data non ci convince. Mio fratello era mancino. Se avesse voluto entrare nell'appartamento rompendo il vetro, come sostengono gli investigatori locali, non avrebbe usato il braccio destro, ma il sinistro, inoltre, aveva con sé anche le chiavi.